Perché diventare comune iscritto sostenitore del FAI? Perché chi sostiene il FAI sostiene l'Italia più bella. Il comune che diventa iscritto sostenitore ci aiuta a tutelare il patrimonio culturale italiano e compie un gesto d'amore per il nostro paese. La missione del FAI, Fondo Ambiente Italiano, Fondazione Nazionale Senza Scopo di Lucro, è promuovere in concreto una cultura di rispetto della natura, dell'arte, della storia e delle tradizioni d'Italia e tutelare un patrimonio che è parte fondamentale delle nostre radici e della nostra identità. Il comune che si iscrive al FAI ottiene molti benefici e ha la possibilità di accogliere le giornate FAI di primavera o di autunno, grandi eventi di piazza dedicati alla cultura e organizzati da volontari, godendo della visibilità sul territorio nazionale. Gli eventi sono promossi sui maggiori giornali, sulle principali emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali e sul sito giornatefai.it. Questi eventi generano interesse da parte dei cittadini e aumentano i visitatori delle bellezze del territorio, portando durante il fine settimana a un incremento del numero di turisti e dell'indotto economico. Ma non solo. Il comune ha soprattutto la possibilità di generare valore sociale, un risultato duraturo nel tempo, avvicinare i cittadini, le associazioni locali e le scuole al patrimonio paesaggistico e monumentale del territorio, fa crescere l'identità e la coesione sociale nell'intento di conoscere, amare e quindi salvare il nostro paese. Diventa comune sostenitore. A te conviene. All'Italia fa bene.